La società di oggi sembra organizzata in modo da esaltare le tenebre. Quanto siamo presi, conquistati, affascinati, catturati, forse addirittura soggiogati, schiavizzati da cose bellissime, ma che fanno parte del regno delle tenebre. Non lasciamoci avvolgere dalle tenebre, non lasciamoci conquistare dalle tenebre. Nella nostra società odierna, moderna, le tenebre si possono toccare e la luce sembra ormai sconfitta. Non è così. Dio ha messo la sua chiesa. Noi siamo stati chiamati, siamo stati arruolati, ingaggiati per combattere contro le tenebre, contro il buio. E noi siamo impegnati con tutte le nostre forze a combattere le tenebre. Sei stato posto qui per splendere, per apparire come l'alba. Ci sia la luce a casa tua. Guarda un po'. Se a casa tua vigono, regnano le tenebre o regna la luce. Se vuoi, l'interruttore c'è a portata di mano su in alto. Alza la tua mano, invoca il Signore. E il Signore accenderà la luce anche per te. E il Signore accenderà la luce anche per te. Grazie a tutti.